questo mannaggia la miseria ogni tanto cerco di fregarmelo ma è chiaro che non mareggio oggi gli riazzi stanno tutti bene una volta c'è il mio ragazzo Nitti Curti quando abbiamo riazzitti quando abbiamo proprio i micchi 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 che facevamo fino alla prima ripentare c'avevamo l'uzinaletto pure l'uzzina a quadrucci con l'ufiucco ma ci escemmo pure per strada e comunque quando li vedono tutti quanti ha remutato i ragazzi perché proprio cambiamo della notte al giorno se ci ammazza quello oh ha visto che è paino paino è proprio Tito si dedica una poesia li paini de mo all'ultimi dell'anno le riazze aspettano che vanno fidanzato ci si presenza tutto un bimbinato un principe te pare ma non è ci offre la sedia la riazza sia e subito ci dice si ha cenato e risponde si fa l'educato ma le botella stanno a borbottare mentre aspettevo che entra l'anno nuovo è meglio che facevo una partita risponde esso non me ne trovo mi sento male mi dole la saccoccia sente dei fritturici per la vita perché non ci teni sordo alla saccoccia è quello che una volta quando pigli la paghetta li pigli e ce l'avevi in saccoccia e li facevi vedere ma non te li spenni perché poi erano buoni per un sabato dopo ci c'era la paghetta eccola ma erano sempre quelli che erano repusati ma non scompariscano mai torino a tutti perché a me mi proprio piace e ci ha ricontato la vita si non ha fatto le poesie ma vedi è sempre come diceva qui l'attivoli ire e ore una volta ci stia a roma che ci stia trirussa belli pascarella e annuncemo dito silvani e poi non ci scordiamo delle due mariotti perché con le due mariotti pure cominceremo il discorso e questo lo diceva Luisa lo bello della donna è la faccia lo bello della femmina è la faccia che quando la baci ci senti la ciccia allora te la stregni forte con le braccia ci si cari spiccio spiccio la camicia l'uomo qui lo momento va deciso a cercare grazie dell'uomo